Emilio Fede ha saputo della morte di Silvio Berlusconi, il caro amico, e ovviamente ha pianto, piange lacrime di fuoco. Emilio Fede è l'ex presidente, o meglio l'ex direttore del TG4, eravamo come due fratelli. Sono state queste le parole che Emilio Fede avrebbe utilizzato nell'andare a parlare di Silvio Berlusconi, il caro amico, il personaggio che tutti conoscono più che bene per quello che ha fatto a livello politico, calcistico, editoriale, e chi più ne ha più ne metta. Ho sempre creduto in lui, e lui ha sempre creduto in me. Era una guida, era un personaggio pilastro per il buono Emilio Fede, un personaggio che non tornerà più, e che a mio avviso ha avuto un'amicizia forte, un legame intenso, non in ambito sessuale ovviamente, perché entrambi sono edero, sia Silvio che Emilio, proprio con quest'ultimo, la gentilezza, il garbo, la stima che Emilio aveva di lui e lo stesso Silvio aveva di Emilio Fede, sono elementi tangibili. E credetemi che Emilio Fede porta con sé tutta quella stima, tutto quell'affetto, tutta quella energia che Silvio Berlusconi ha saputo dare e trasmettere a lui stesso. Va bene? Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi dentro di Youtube, iscrivetevi se vi va a commentare, questo video non vuole vedere la pratica di Emilio Fede né di altre persone, ma solo informare il stoppolo. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Ciao a tutti!